Buongiorno, lei è Salvo Dadone? 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 tra sé che io non posso giocare Papà, mi manca se tutto di te quando giocavi spensierato insieme a me Non so che quando manco figlia mia ma niente posso fare per stare con te no, non posso fare proprio niente adesso è ancora accadente figlia mia e tu giuro, tu giuro quando riesco fuori non sbaglierò più ti voglio bene, ti voglio bene assai